Ti sei mai trovato a spendere un sacco in strategie di marketing del più vario genere, ma che ti sembrava non portassero nessun risultato? Bene, il segreto non è come dice qualcuno, spendere di più, ma è nello spendere meglio. Vediamo come. Il primo punto fondamentale riguarda il conoscere il proprio target. Di questo tema ne ho parlato credo oramai centinaia di volte, ma è fondamentale perché prima di ogni cosa noi dobbiamo sapere chiaramente a che ci stiamo rivolgendo. Perché un messaggio troppo generico è veramente il primo passo verso il fallimento. Il secondo elemento fondamentale riguarda la misurazione. Bisogna misurare tutto. Come dice qualcuno, ciò che non puoi misurare non può essere migliorato. Bene, noi dobbiamo monitorare l'efficacia di tutte le nostre campagne pubblicitarie per capire cosa funziona e cosa no. E possiamo utilizzare un sacco di strumenti che qualunque piattaforma di pubblicità oramai ci dà a disposizione. Il terzo elemento riguarda la sperimentazione. Perché non possiamo sperare di indovinare tutto al primo colpo. E siccome non tutte le strategie funzionano allo stesso modo per tutti, è importante sperimentare diversi canali, diversi messaggi e via dicendo. Non possiamo limitarci a fare un tentativo e, se non funziona, abbandonare. Il quarto punto riguarda il contenuto. Perché noi dobbiamo offrire del contenuto che educhi le persone, gli dia valore e le informa sui benefici che noi siamo in grado di dargli. Per cui, perché un cliente deve acquistare da noi, dobbiamo farglielo sapere. E questo non solo attira di potenziali clienti, ma costruisce anche una fiducia e autorità nei confronti del nostro pubblico. Il quinto punto, infine, riguarda la profondità del messaggio. Nel senso che noi possiamo utilizzare la pubblicità online per raggiungere un pubblico ideale. Ad esempio, strumenti come Google Ads ci permettono di targettizzare al meglio gli utenti. Tramite l'analisi della parola chiave. Bene, quello può essere un canale, sicuramente, che ti permette di raggiungere una persona nel momento che sta dimostrando esplicitamente di ricercare qualcosa e tu potresti comparire davanti a questa persona. Allo stesso modo, ci sono strategie diverse, in base ai social che utilizzi, ma la logica è sempre la stessa. Tu devi avere chiaro in mente a chi ti rivolgi e parlare a loro. Questo perché con l'approccio giusto ogni euro speso si trasforma in un investimento. Ma se non misuriamo, se non facciamo le azioni corrette, se non utilizziamo i messaggi corretti e se non sperimentiamo, difficilmente riusciremo ad arrivare a ciò. e il nostro marketing rimarrà un'inutile spesa. Quindi sei pronto a rivedere il tuo approccio al marketing e a fare la differenza? Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ricorda che persone diverse acquistano lo stesso prodotto per motivi diversi. Per questo è importante utilizzare spesso più messaggi con l'idea di dare questo messaggio a persone diverse. Io faccio sempre un esempio molto banale, ovvero quello di una palestra. Una persona può andare in palestra perché vuole perdere peso, un'altra perché vuole mantenersi in forma, un'altra perché vuole sviluppare un fisico da culturista. Bene, ti rendi conto che ognuna di queste persone ha bisogno di un messaggio diverso perché si iscriverà in palestra per un motivo diverso. Il tuo marketing, il tuo messaggio deve fare proprio ciò, avere chiaro a chi ti stai rivolgendo e parlare specificatamente a loro. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!